Bella a tutti da Big Pork, eccoci qua in questa nuova gara Questa gara è stata gherata da Daniel Nirvana Vi lascio il suo canale in descrizione se ce l'ha Comunque è una mega rampa Sali e scendi, andiamo? Bello grosso, bello grosso Si parte subito con la Goutlet Hellfire se non mi sbaglio Oh una bella miniatura qua Qua si inizia a avere organi e la miniatura ho vista Caramba Madre mia che subitato Bella, bella Meno male che non siamo esplosi Oh raga tutti che esplodono, ma chi è? No io no, io no, dai, perché? È normale che dove esplode pure io Quindi stiamo tranquilli, non vi preoccupate Allora Vediamo di fare una bella carerita Soldato Andiamo, andiamo Ok, dobbiamo fare attenzione a questi rimbalzi Perché sembra Una rampa che va a fortuna Ma invece Oddio sui che combina Invece raga bisogna stare molto attenti Ok Ecco, è pericoloso Finché andiamo così raga va bene Ok, peccato che siamo esplosi Vediamo se si può recuperare qualcosina Qualcuno è esploso all'ultimo Credo di sì Ok No Vediamo se riusciamo a saltare due Questo volevo fare Però esplodo Rimettiti bene Meno male Andiamo, andiamo Ma se vado di là è meglio? Sapete che non lo so Sembra che salta di più Ok Poi bisogna vedere che veicoli ha messo dopo Sui sui Qua si esplode come niente Mamma mia Sono io, sono io Dammi una mano Andiamo, andiamo Quanto è lunga questa mica rampa Ci vogliono tre minuti Solo a scendere Vediamo i check 25 Però calcolando che sono due check Quando prendiamo quello del teletrasporto Perché dopo c'è Quello lì Dell'aereo Ok Noi C'è già gente che Sali Dai regà Un po' odio voglio Un po' odio Ma sui quanto corri Era meglio quella? È vero regà Guarda lui ne salta due alla volta Ed è pure stock con la macchina Perché noi no? No no regà Tanto dobbiamo cambiare veicolo Vediamo se riusciamo a recuperare Chi è che è esploso l'ultimo? Non lo so Dai veloce veloce Per favore Ok Vediamo cosa c'è Beh adesso no Ah No questo non ce l'ha il turbo Che peccato Comunque ci rivediamo su Bella comunque la macchina Favolosa Vediamo che veicolo ha messo Aspettate che possiamo vedere Perché c'è gente che scende Che veicolo è? Oh regà abbiamo rischiato questo Ah l'hammer Io ce l'ho modificato Sì Sì No respawniamo Respawniamo regà Teoricamente questo è metallico nero Ma non si vede così bene che è metallico Sapete? Eh veloce veloce È un nero strano Allora Questo dovrebbe andare bene Nella meca rampa Credo proprio di sì Se ne saltiamo due alla volta Regà È un veicolo perfetto Sì Così dobbiamo fare Sui però Oh no 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 vede bugatti il mio ritmo Il mio ritmo Stupendo Rivettiamoci bene Allora Misuriamo un castello Allora Finché così dovrebbe andare bene Ok dai Più boost Olè Questo è il ritmo giusto Guardate Oh mio dio Ok ok Fai dei bugatti Però spostati Ok ok Siamo vivi tranquilli Questo ritmo regà Superiamo tutti Dai che superiamo pure Kratos Potrebbe Oh mio dio Oh mio dio Che controllo regà Che controllo del suino Oh mio dio No Settimo Dai che hai recuperato sui Ok ok Rimettiamoci dritti E riprendiamo il ritmo di prima Ok Forza adesso ne saltiamo due No Al prossimo No regà Non riesco a prendere quel ritmo Di saltarne Non due però Atterrare direttamente nel secondo regà Questo volevo dire Ok Oh mio dio Oddio No 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 Dai che c'è pure Gabriella Rimettiti bene Per favore No no Mi hanno superato Dai Hammer Ok Possiamo andare Eh regà Tutte le posizioni abbiamo perso Ci voglio Vediamo il primo Quanto è distante 41 secondi Regà Non è tantissimo Ancora possiamo darcela Sui Che sta succedendo qua Oh regà Mi vuole trollare Aiuto Aiuto Non mi trollare Per favore Ma c'è la scia con l'aereo Credo di sì No 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 Regà Aspettate Andiamo a prendere Questo bel check Che veicolo Che veicolo è il Brigade Come si chiama questo Questo regà Trolla tantissimo Mio dio Vediamo se riusciamo A recuperare qualche piccola posizione Regà Anche se Se è veramente complicato Andiamo Sì Guardate come rimbalza No Zitti No regà Questo trolla Trolla veramente tanto No 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 Da che stanno qui Stanno qui Sono due posizioni Sì Uno di più Sono tre Tre posizioni Settimo Il sesto E là c'è il quinto E se riesco a guadagnarmi Una quinta Posizione No Niente da fare Regà Rimettiamoci bene Che rumore c'ha Quando vanno a marci dietro Regà Rumore strano Allora Secondo me Dobbiamo andare moderati Sapete Una alla volta Ne dobbiamo saltare Per forza Stanno là Stanno là Credo che pure il primo Sta alla casting Sì sì Ok Eh trolla Regà questo Mio dio Comunque la mica rampa È leggermente Esagerata È enorme Questa mica rampa Ok Settimi Allora Il Uh Alberto Modder È esploso Quindi te sei un sesto Sei Oh finché c'era la carcassa Non mi dava la posizione No 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 Non voglio fare la stessa fine sua Dai Ma io Ma io dico Tre ore per incirarti Dai sui Che disgrazia No 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 Non me frega la mia posizione Di nuovo no eh Aspettate Rigiriamoci Così Con stile Con stile Regà Ok ok Di nuovo Di nuovo trollato Sui Andiamo Andiamo Dai qualcosina si può recuperare Sì sì Mio dio È esploso qualcuno? Regà forse è esploso un brigade Vediamo se ci da una posizione No 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 Allora era Un doppiato Che peccato Capri 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 Cosa? Cosa è successo? Andiamo andiamo Regà già 8 minuti eh Mio dio Sesto Vabbè abbiamo superato Gabri Madre mia È difficile Regà Non potete capire Quanto è difficile Vi da sto cosetto Ci va bene così Ci va più che bene No 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 Devo uscire fuori Io ho di nuovo Ottavano eh Dove ho preso tutto Quel busto Per su No 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 Questi Si schiantano qua Regà Esplodo io Ok Che palmi è mezzo Distrutto Guardati Ok Veloce Se non esplodeva All'inizio Anzi Dovevo prendere La clique Che è spettacolare Quella macchina Avete visto Soldato Quanto andava veloce Andiamo Questo dovrebbe andare bene Di veicolo eh Credo proprio di si Dai dai Rapido 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 Vediamo un po' Ottavi Il sesto L'ho visto Sta là Carca vediamo Questo dovrebbe essere Proprio una favola Di veicolo eh Quindi evitiamo di trollarci Ok 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 Ne salta tantissimi Questo veicolo No 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 Devo mantenere il controllo Regà Perché non Posso Perdere Questa posizione Che è essenziale Per Recuperare un po' Oddio No Regà È difficile È difficile Però Se riesco a riprendere Il mio ritmo Che Mi piacerebbe Riprenderlo Aiuto Ok Ok Allora Aspettate Facciamo così Andiamo piano Ok Vediamo pure che vada su due ruote Ok Se do un po' più di gas Se forse ci arriviamo No regà È tosta È tosta Veramente Veramente tosta Recuperare Mio Dio Ok Andiamo Sì 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 Il ritmo È carino Oh regà Potete capire Che sta a combina Ok Pure gabri Leggermente trollato io di più Andiamo Andiamo Ragazzi Riesce proprio a riprendere Nada di nada Mio Dio Ok No Il suino ha preso il ritmo Cari tu di sì Come si fa a prendere questo ritmo Poi atterra tipo male Pensavo che era più facile No 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 Per favore Ok Oh Ritmo Ritmo regà Gabri spostate che c'è un ritmo Stupendo Il brigade Brigade Rimettiti bene Ok No No rialzati Ok ok regà No no sui la sesta è la mia La sesta è la mia Andiamo 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 Belli veloci Allora Avete visto Se prendo un bel ritmo Scendiamo giù in due secondi Il problema è che c'è pure Altra gente in mezzo alla migliaia E questo Oh Sì No regà Non può mettere questi veicoli Ma una bella T20 Non andava bene No Questo qui Mio Dio Meno male che non si è esploso E l'ho distrutto io Comunque siamo sesti Questo regà trollerà tantissimo Vediamo Credo un gradino alla volta Perché più di questo non riesce Non lo sui Oh stavo scherzando Oh Che se riesco a prendere ritmo Ok Oh Oh Regà 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 Va bene Va bene Quanto è difficile controllarlo Scendi qua Ok Facciamo così Ehi Che visuale Oh mio Dio Che gara Sì Che visuale Cioè Aspettate che stiamo recuperando La c'è il quinto Non so che visuale Sembra tipo quella del cararmato Del canciali Quando Si trolla E mette quella visuale strana Ok ok Però va bene Va bene Aspettate Quando rimbalza Fa questi rimbalzini Strani Ma mai è proprio ammortizzato Una molla Ok Aiuto Soldato Soldato Come stavo rimbalzando Ok Regà finché Andiamo così va bene Tranquilli Ok Ci siamo quasi Regà Vi rendete conto Che serve concentrazione In una rampetta Dove bisogna solo scendere Però Non è così facile scendere Oh Oh sui Siamo vivi Scusami Andiamo Oh aiuto No 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 Veloce Che siamo quinti Sui No Si 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 va bene Andiamo andiamo Belli veloci Belli veloci Belli rapidi Abbiamo recuperato Qualcosina Qualcosina si Ci servono solamente Due posizioni Per il podio Che a me basta Andiamo Oh aiuto Ok Vediamo un po' Ah Trax Si si Allora regà Dovrebbe essere facile Andiamo 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 un po' Se è difficile Cioè più che altro Dobbiamo prendere il ritmo Oppure con questa macchina Ok Rivaniamo belli centrali Guarda regà Che forza è facile Oh mio dio Si si Ma infatti io preferivo Quelle super Che ha messo veicoli Troppo trollosi Secondo me Oh 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 No 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 Questo esplode Aiuto aiuto Meno male Meno male che non si è esplosa Trax Ok Andiamo Che ci sono gli aerei Che troll Ok Qua ne abbiamo saltato Uno Anche qui credo Si dobbiamo impuntare Leggermente la macchina Come vedete Ok Veloce Rapido Oh a momenti due Veramente qua Olle Regà credo che stiamo Andando bene Credo di sì Mio dio Ipnotizza un po' Questa mica rampa Perché dovete stare così Concentrati Premere R1 Mettere bene la macchina Aiuto Qua c'è un Cerno Come si chiama Cernobog Aiuto Dai dimmi che sei una Trax Là sotto Sui Rigirati Ok ok Chi era? Xleone 05 Vediamo Sì sì Oh Regà forse sono Quarto eh Perché Alberto Ha cancellato Xleone Oh mio dio Povero Xleone Andiamo andiamo Belli veloci Vedi Bugatti È il mio podium Ok dai Vediamo che veicolo C'è regà Cos'è Cos'è regà Credo di aver capito Ma non mi ricordo Il nome Ok Una gipetta Vediamo un po' Se va bene Per favore Per favore Per favore Ok 29 secondi Da Fede Bugatti Ed è poco Dai veloci Che veloci Che possiamo Questo camioncino Ok Ritmo Ok Sì Wow Wow Non driftare Ok Finché andiamo così Regà Possiamo andare tranquilli Veramente Non Sì Mio dio Ok Stiamo scendendo Come si deve Perfetto Dimmi che c'è Fede Bugatti Non lo so Come chi è A me sembra Una Trax Sì È un Cernobog Pure Cernobog Che ci dà fastidio No Meno male Forse sta lì Fede Bugatti Credo di averlo visto Ok È lui È lui Oh No Non perdere Proprio adesso No Regà Ritmo Il ritmo Mio C'eravamo Quasi fatta A riberarlo Dai Dai Veloce Veloce Un piccolo errore Vedete No Ancora i secondi Non sono aggiornati Ma è lui Vediamo Sì era lui Dalla minimappa Mannaggia A me Ok Ritmo Preso Forse è rimasto trollato lì Sì Oh mio dio Regà Eccolo qua Eccolo qua Vedi Bugatti Il mio podio Ciao podio Come stai Andiamo Moto Cos'è 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 regà Ditemi cos'è Per favore Che faccio un bel glide Shotaro Andiamo 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 Belli veloci Mamma mia Ci voleva una bella Shotaro Vediamo un po' Se riusciamo ad attaccare un glide Però Eh no Non credo Però va bene così Forse se mi buttavo Era meglio Oh mio dio Stai che è facile È facile Con la Shotaro Possiamo andare a 2000 Ok Ah ma io non c'ho manco Il completo da suino oggi Niente ho messo Ok Dai non fa niente Non fa niente L'importante è che Ci portiamo questo podio A casa regà Mamma mia Quanto abbiamo faticato Per avere questo podio Occi Ok Uh Sì sì Va bene Va bene Peccato per il glide Ragazzi Veramente un peccato Forse mi dovevo buttare giù Dalla piattaforma Ed era meglio eh Ok Dov'è Fede Bucatti Andiamo un po' Mi sa che sta proprio qua dietro eh Sì Abbiamo recuperato quasi pedis 23 secondi Andiamo 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 belli veloci Eccolo lì Fede Bucatti Regà Ho perso il mio podio Non ce l'ho io crede È svanito Non mi chiedete niente per favore Che disgrazio Ce l'ho io crede Abbiamo faticato tanto Per fare questa mica rampa No Fede Bucatti dove è Non si sa Non ho I Idea Madre mia Comunque veramente È una mica rampa Estrema Super Super Estrema Sui tu stai Mio dio Andiamo a finirla questa gara Madre mia Comunque sia Se vi è piaciuta questa mica rampa estrema Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate il mio primo canale Porkmods Nel mio terzo canale One Pork E noi ci becchiamo al prossimo video Bella